Dunque, Borgati dal Vivo è un festival che nasce come un festival letterario e si sviluppa quest'anno alla terza edizione in sette regioni, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e una tappa anche in Umbria, Castelluccio di Norcia. È stato considerato in realtà anche dall'Italian Festival Association e lo European Festival Festival Association come il festival europeo più grande per durata, 93 giorni, ed estensione 2000 km. Per cui diciamo che è un cammino che percorre tutto l'arco alpino occidentale ma che si allunga anche un po' ad est, a nord est dell'Italia fino al centro. Nasce come un festival letterario ma quest'anno in realtà propone anche contenuti che riguardano la danza, che riguardano il teatro, la musica, il cinema. Insomma non a caso quest'anno lo slogan di Borgate dal Vivo è Performing Alps. Noi percorriamo le Alpi performando tutte le arti possibili e immaginabili. Ci spostiamo in Umbria perché abbiamo abbracciato un territorio dimenticato dai media dopo soprattutto il terremoto di ottobre del 2016. Castelluccio di Norcia è un luogo incantevole, meraviglioso, tra l'altro presidio IGP per la lenticchia e che noi abbiamo voluto mettere al centro della nostra attenzione perché l'obiettivo di Borgate dal Vivo è quello un po' di ricucire i lembi di questo paese dal punto di vista soprattutto culturale. Abbiamo cominciato a raccontare questo territorio. Adesso stiamo lavorando in questa edizione ad un incontro in uno dei prati perché tra l'altro c'è da dire che Castelluccio di Norcia è ancora completamente distrutta raccontare questa rinascita, il tentativo di rinascita di questa cittadina attraverso la musica e le parole. Noi andiamo avanti fino al 16 settembre con una cinquantina di eventi che incrociano in realtà il desiderio di attività e di iniziative culturali dentro queste Borgate alpine. L'obiettivo è sempre lo stesso per noi ormai da tre anni, quello di lottare allo spopolamento delle zone periferiche e crediamo in realtà che rimettere al centro la periferia, rimettere al centro il borgo alpino che sta vivendo comunque da tempo un ritorno, visto che la fuga dalla città è già sotto gli occhi di tutti, un ritorno al borgo che significa rimettere al centro la realtà periferica di questo paese che in realtà è la spina dorsale di questo paese.